Solitamente chi perde spiega perché ha perso, non ho nessuna intenzione di farlo. Ringrazio molto i miei giocatori perché penso che hanno giocato una grandissima partita. Penso che abbiano messo in campo tutto quello che avevano, che era quello che avevo chiesto. After I repeat in English. Hanno messo in campo tutto quello che avevano, penso che in un determinato momento abbiamo messo in grande difficoltà la squadra che è campione del mondo. Sono altrettanto convinto che ci meritavamo di vincere almeno un set, però mi fermo qui per non andare avanti con altri commenti. E sono sicuro che saremo pronti per fare una grande finale per il terzo e quarto posto domani.